Ciao a tutte e tutti, buonasera, siamo qui questa sera con un dibattito che abbiamo voluto chiamare, ripartiamo dal salario minimo e dalla sicurezza e sottolineo il ripartiamo che significa che noi pensiamo che questa lotta che noi stiamo conducendo possa essere importante non solo in sé ma anche per altre cose che diremo. Intanto presento gli ospiti, abbiamo qui alla mia destra l'avvocata Giorgia D'Andrea, importante perché ha vinto, ha fatto delle cause sui contratti quelli del lavoro povero, quelli dei vigilanti noti, vincendo delle cause e quindi ottenendo per i lavoratori il diritto a un salario un po' più decente, non ancora quello che diciamo noi, ma comunque è servito a svelare un fenomeno che c'è in Italia e a far vedere che c'è un'operazione di supplenza richiamando la Costituzione rispetto a dei problemi che abbiamo nel nostro paese nella capacità di ottenere risultati in altri modi. Poi abbiamo Guido Lutrario che è dell'esecutivo di USB che è l'organizzazione sindacale da cui è partita la proposta sull'omicidio sul lavoro, poi abbiamo il professor Frederic Boccarat che è economista dell'esecutivo nazionale del PCF e insegna alla Sorbona di Parinci. Infine, solo perché alla fine del tavolo rispetto a noi, il professor Emiliano Brancaccio, anche lui economista arcinotto dalle nostre parti, che penso insegni alla Università del Sannio, non gliel'ho chiesto ultimamente ma sapevo questo dato. E in ogni caso è così noto che le presentazioni sono superflue. Bene, io faccio una breve introduzione veloce per dire che noi siamo partiti da una situazione drammatica del lavoro in Italia che sostiene una serie di condizioni che hanno reso assolutamente inapplicata, a dire poco, la Costituzione di questo Paese. Parto da questo perché il dibattito precedente ha parlato molto di Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, l'articolo 36 della Costituzione dice che ci vuole un salario proporzionato e sufficiente a lavoro svolto e comunque sufficiente a garantire al lavoratore e alla lavoratrice un'esistenza dignitosa per sé e per la propria famiglia. L'articolo 41 della Costituzione dice che l'impresa non può svolgere la sua attività compromettendo la salute e la sicurezza dei lavoratori. In Italia se uno legge adesso questi articoli e guarda la situazione italiana si mette le mani nei capelli. Siamo un Paese in cui i salari sono gli unici in Europa ad essere diminuiti negli ultimi 30 anni, gli unici in Europa, mentre in altri Paesi sono aumentati, poco o tanto, ma sono aumentati. Siamo il Paese in cui la precarietà è diventata così devastante da costituire la condizione di lavoro e di vita di milioni di giovani e di donne insieme al fenomeno dei part time obbligati, insieme al super sfruttamento e all'assenza di diritti che vige in molti settori di questo Paese in particolare alcuni noti e nelle catene degli appalti e dei subappalti rendono la condizione del lavoro i lavoratori e le lavoratrici oltre che in condizioni di vita indegne ricatabili agli interessi al comando dell'impresa che appunto sfrutta questa condizione per aumentare le condizioni dello sfruttamento. Noi sappiamo tutte queste cose, sappiamo che il lavoro povero non è dovuto solo alla paga oraria in sé, è dovuto anche ad altri fenomeni come al fatto che chi è precario fa un certo numero di ore al mese, di giorni all'anno eccetera eccetera. Come chi fa il part time obbligato ha lo stesso problema, come nel lavoro nero lì sono anche i bassi salari ma parli di contratti e di condizioni di regolarità. Noi partiamo da una proposta che vuole essere una risposta a questa questione e guardate la proposta che facciamo noi 10 euro all'ora circa 1400 euro netti al mese e quindi abbiamo rifiutato le ipotesi che ci chiedono di parametrare i salari minimi al 60% della mediana come indicato in una direttiva europea. Il 60% della mediana rispetto ai salari italiani è povertà relativa, è povertà relativa intorno alle 850 euro al mese, quindi assolutamente inaccettabile per un lavoratore e pensate come capita per tantissime donne quando hanno un familiare a carico. Potevamo chiedere di più? Sì, molti ci hanno detto, dei giovani in un dibattito recentemente ci hanno detto è poco. Sì ma guardate che questa proposta non prova a risolvere solo il problema di chi ha paghe indegne da 4, 5, 6, 7 euro, 8 euro lordi. Cioè scusate, non solo quelle da 4 o 5 euro ma prova ad affrontare il problema di moltissime fasce di lavoratori. I calcoli ci dicono che 10 euro lordi all'ora in Italia in questo momento farebbero migliorare la condizione salariale di circa 5 milioni di lavoratrici e lavoratori. quindi ci interessa certo le condizioni di super sfruttamento e di paghe da fame su cui sono intervenuti i tribunali visto che oramai la contrattazione collettiva in questo paese grazie anche allo stravolgimento dei modelli contrattuali non garantisce più i lavoratori quindi sono intervenuti i tribunali. Vogliamo intervenire su quella fascia dico ma vogliamo intervenire sull'insieme del mondo del lavoro. E diversamente da quello che è stato detto il salario minimo deprimerebbe la contrattazione e quindi danneggerebbe tutti gli altri lavoratori. Non è vero, non è vero per un'infinità di motivi. Dalle scale parametrali che i contratti debbono oggettivamente avere perché non esiste una condizione di possibilità in cui in un'azienda siano tutti allo stesso livello. Gli stessi contratti si muovono su scale parametrali precise ma è chiaro politicamente il dato rilevante è che alzando una platea molto grande di lavoratori a un livello come quello che chiediamo noi si rafforza tutto il mondo del lavoro, si riduce tutta la ricatabilità del mondo del lavoro e quindi aumenta la forza complessiva del mondo del lavoro. La nostra proposta di salario minimo non è una proposta che riguarda solo il lavoro in senso stretto, è una proposta che intanto sul piano del lavoro per quanto riguarda riduce molte disparità e disuguaglianze nelle fasce fino a 10 euro. In particolare incide pesantemente sulla disparità più grave, più pesante che c'è nel mondo del lavoro in questo paese ed è quella che discrimina le donne perché nelle fasce più basse della popolazione lavorativa la gran parte è costituita da giovani e donne. Ma c'è un altro motivo molto rilevante che riguarda il salario minimo e riguarda i salari in generale e qui io comincio a interpellare gli economisti ed è il tema che l'Italia tra i paesi europei soffre storicamente e di questi tempi ancora di più di una carenza consistente che è il livello bassissimo della domanda interna. Altri paesi, gli Stati Uniti quando hanno investito soldi pubblici rispetto ai paesi europei e non parliamo rispetto all'Italia, hanno investito di più per far crescere i consumi e le domande private rispetto ad altre situazioni e il problema della crescita e della crisi nel nostro paese è legato strettamente a questo aspetto. Ultima questione, la dico sempre interpellando gli economisti ma li chiamerò in causa anche su altre due questioni, è quella che il salario minimo incide significativamente sul modello economico e produttivo del paese. Perché la condizione in cui siamo è che dentro la modernizzazione neoliberista di questi ultimi 30-40 anni c'era l'assunto che il paese potesse competere sui bassi salari e questo ha portato a non investire nell'innovazione e l'Italia meno degli altri paesi europei ma di molto. Il calo della produttività in Italia che è di molti punti rispetto a quanto è cresciuta in Francia, in Germania eccetera non è legato certo al fatto che i lavoratori lavorano di meno che anzi i lavoratori italiani fanno più ore e la produttività invece non cresce perché la produttività è legata a investimenti che aumentino il capitale costante, l'innovazione eccetera eccetera invece il nostro sistema produttivo sta scendendo sempre più verso i gradini più bassi delle gerarchie produttive europee. Un'ultima questione dico poi lascio la parola quando noi parliamo di salario minimo e aggrediamo la condizione del lavoro in Italia con questo tema noi non è che ignoriamo le altre questioni, non è che pensiamo che le altre questioni siano secondarie. Noi partiamo da qui perché la condizione salariale è il portato e la conseguenza di tutti gli altri fenomeni che sono successi in questo Paese, della precarizzazione del lavoro, della bassa occupazione femminile, del fatto che è stato eliminato l'articolo 18, della proliferazione del mondo degli appalti, della proliferazione dell'economia legata al lavoro nero e al lavoro grigio che ha un impatto rilevantissimo, parliamo di milioni di lavoratori. Noi aggrediamo questo problema perché pensiamo che in questo momento il tema dei salari sia un tema centrale e unificante di tante fasce di lavoratori divise in mille profili contrattuali, in mille figure lavorative, professionali, a molti livelli, giovani, donne e che questa proposta sia molto unificante. Non a caso l'inchiesta che avete seguito tutti recentemente dice che il 70% degli italiani è per il salario minimo. E dico anche un'altra cosa che è legata un fenomeno modernissimo, quella delle dismissioni di massa. Un'indagine europea uscita 15 giorni fa circa, dice che la prima causa delle dismissioni di massa individuata nelle risposte all'indagine e da gran parte che sono giovani è proprio il problema dei bassi salari, è proprio il problema del salario. Bene, allora noi pensiamo di ripartire dal salario per unificare un fronte largo del mondo del lavoro, disperso, frammentato, diviso, deluso, passivizzato, in una condizione per unificare tutto questo fronte senza dimenticare gli aspetti legati alle condizioni della vita e quindi alla confederalità, cioè quindi all'unire a questo mondo quello che c'è intorno in termini di ceti popolari e di movimenti che lottano contro le altre contraddizioni. Però pensiamo che questo sia il grimaldello fondamentale, che in Italia oggi ci voglia una grandissima, enorme vertenza, stagione di lotte centrata a partire, quantomeno, dai salari. Ovviamente, ripeto, tutti gli altri temi vanno considerati. Prima è stato fatto un bel dibattito sull'autonomia differenziata, è un tema centrale, è stato detto anche come incide sul lavoro questo problema e come indebolirebbe ulteriormente un fronte del lavoro già debolissimo. Allora noi diciamo, partiamo del salario, non dimenticando niente, sapendo anche che stiamo entrando in una fase pesante. Qui interpello di nuovo gli economisti e anche gli altri che vorranno intervenire. Perché noi andiamo in Italia verso un rilancio potentissimo dell'austerità con una manovra autunnale che farà dei tagli incredibili. Si parla tanto dei due punti che mancano alla sanità ma c'è un dato che nessuno dice. L'inflazione degli ultimi anni determina il fatto che nel documento di economia e finanza dell'anno prossimo le risorse previste per la sanità uguale per tutta la spesa pubblica hanno un taglio di valore reale del 10% a causa dell'inflazione. Sono in pratica ridotte del 10%. Quindi ci aspettiamo una finanziaria che inciderà sul lavoro nel pubblico. I contratti non li vogliono fare, ci vogliono 32 miliardi, non hanno i soldi e dicono che non li fanno. E siccome non hanno intenzione di tassare i ricchi e dicono che devono rispettare i vincoli, i soldi non ci sono. Quindi si comincerà a non fare i contratti, a tagliare la sanità, a tagliare i servizi, a fare quelle schifezze vergognose che denunciavano le compagne prima a proposito dell'autonomia differenziata. Quindi abbiamo questo problema della finanziaria. Poi noi abbiamo il problema degli alti tassi della BCE che produrrà danni giganteschi all'economia. All'economia italiana io penso in modo particolare perché altri stati hanno capacità fiscale più alta. L'Italia è in una condizione drammatica. E poi anche qui interpello di nuovo gli economisti e mi piace citare il professor Brancaccio. E qui c'è il problema che la guerra è la competizione internazionale sfrenata ad essa collegata che interverrà brutalmente sugli equilibri del capitalismo mondiale. Brancaccio dice lega la guerra a quella che lui giustamente secondo me definisce legge di movimento del capitalismo la centralizzazione dei capitali che sta operando su scala mondiale ed è uno degli elementi che in qualche modo è responsabile degli accadimenti di cui stiamo parlando. Quindi il mondo del lavoro in Italia è in condizioni difficili, debole e diviso, va verso una fase ancora più complicata. e quindi riuscire a costruire, a partire io penso anche dalla nostra lotta. Penso che noi diamo un piccolo contributo per avviare un percorso in quella direzione, aprire delle grandi vertenze nazionali, finirla con gli scioperi e le robe che chiedono tutte le volte tutto e non si concentrano su niente e speriamo di dare un contributo in questa direzione e aprire una fase importante in un momento così delicato. Quindi adesso io mi fermo qui, comincerei dal professor Brancaccio che ha anche difficoltà credo di collegamento ma riuscirà sicuramente a parlare. Ci scusiamo per il video ma ci sono problemi di connessione e quindi lo sentiremo solamente a voce. La regia qui penso che mi confermi. È pronto? Può cominciare. Grazie. Mi sentite? Benissimo. Bene. Grazie davvero per l'invito a questa interessante e utile iniziativa. Allora io sarò breve, date diciamo la difficoltà di collegamento, dirò due parole sulla politica economica del capitalismo italiano. In cosa è consistita essenzialmente la politica economica del capitalismo italiano nel corso, diciamo, dell'ultimo quarto di secolo? È consistita essenzialmente nell'abbattimento del costo del lavoro. Se c'è stata, diciamo, una logica nell'azione di politica economica del Paese, quella è consistita nell'abbattimento del costo del lavoro. Dove ovviamente per abbattimento del costo del lavoro intendiamo in primo luogo l'abbattimento del potere d'acquisto dei salari, salari stagnanti, in netto declino in termini relativi rispetto al resto d'Europa e nell'ultimo anno addirittura, sono dati recenti di Confindustria, un tracollo del potere d'acquisto dei salari fino al 20%. E però un abbattimento del costo del lavoro che si è anche manifestato, per esempio, nella riduzione dei controlli relativi, per esempio, alla sicurezza sul lavoro. Anche in questo modo si abbatte il costo del lavoro. C'è stato una sostanziale, nell'arco di un quarto di secolo, un sostanziale smantellamento dei rispettorati del lavoro, un declino dei controlli sulla sicurezza del lavoro, e non è un caso che ormai, diciamo, dal 2009-2010, quindi dopo la grande recessione, noi non registriamo più un declino della percentuale di incidenti mortali sul lavoro in rapporto al totale di gli occupati. Cioè, mentre la percentuale di incidenti mortali, diciamo, negli anni 90 e primi anni 2000, era lievemente declinata, ma almeno declinava, beh, è oltre un decennio che la percentuale di morti sul lavoro è stazionaria, se non addirittura crescente. E questo è un altro indice della politica economica dell'abbattimento del costo del lavoro, perché capirete, ovviamente, che non fare controlli sulla sicurezza significa anche consentire alle imprese di ridurre i costi dei controlli sulla sicurezza. Ecco, perché è stata attuata tutta questa politica? Perché hanno fatto, diciamo, tutto a questo esercizio di politica economica, tutto centrato sull'abbattimento del costo del lavoro? Ma sostanzialmente l'argomento che è stato storicamente utilizzato è stato quello secondo cui bisognava adattare il costo del lavoro alle caratteristiche peculiari del capitalismo italiano. Così è stato argomentato a favore dell'abbattimento del costo del lavoro. Cioè, si è detto, ci hanno detto, ci hanno spiegato che essendo il capitalismo italiano fatto, diciamo, di una struttura frammentata, parcellizzata, fatta di piccole e di piccolissime imprese, in perenne difficoltà di sopravvivenza sui mercati, bisognava adattare il costo del lavoro a questa struttura del capitalismo italiano. Ok? Quindi sostanzialmente bisognava ridurre il costo del lavoro perché altrimenti queste imprese piccole, piccolissime, relativamente inefficienze, non ce la facevano a sostenere i costi. Nella sostanza possiamo dire che questa politica ha avuto come scopo quello di ridurre ai minimi termini di contenere per quanto possibile le insolvenze e i fallimenti di questo sistema di piccole e piccolissime imprese. Per evitare che queste andassero in insolvenza e fallissero, si abbatteva il costo del lavoro. Questa era la razio della politica economica di abbattimento del costo. Bene, qual è il risultato di questa politica economica? È stato anche detto in precedenza. Uno dei risultati più eclatanti e più sconcertanti è che questa politica economica di adattamento, diciamolo pure, alle inefficienze del capitalismo italiano, ha prodotto un tracollo della produttività del lavoro. Un tracollo della produttività relativa del lavoro. E addirittura talvolta anche un tracollo della produttività assoluta del lavoro. Cioè, in altre parole, abbiamo assecondato le caratteristiche del capitalismo italiano, cioè abbiamo assecondato la sua inefficienza. Con il risultato di ritrovarci, a distanza di un quarto di secolo, di quasi un trentennio, con un capitalismo ancora più arretrato, ancora più frammentato, ancora più fragile, di quanto non fosse trent'anni fa, in rapporto ai concorrenti diretti. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere uno degli argomenti chiave di discussione intorno al modello di sviluppo del Paese. Perché è evidente che per poter contrastare questa tendenza, una volta si diceva declino, ma ormai credo sia un infemismo, questa tendenza alla precipitazione, diciamo, verso la retratezza del capitalismo italiano, è chiaro che bisogna fare l'esatto opposto di quel che si è fatto per quasi un trentenne. Cioè, bisognerebbe cominciare ad alzare i costi del lavoro, aumentare il costo del lavoro, aumentare i salari, aumentare i controlli sulla sicurezza. E se qualcuno, qualche, diciamo, apologeta dell'attuale politica economica, dicesse, eh, ma così rischiamo che poi le piccole e piccolissime imprese tendono, diciamo, a risultare insolventi, tendono al fallimento, dobbiamo proteggere, dobbiamo sostenere, beh, noi dovremmo anche dire, perché sarebbe ora di dirlo, che c'è stata un'epoca, un'epoca forse un pochino più illuminata di questa, in cui si aveva coscienza del fatto che l'incremento del costo del lavoro costituiva la necessaria frusta competitiva, la frusta competitiva necessaria a garantire la modernizzazione del processo capitalista. Eh? Questa è una, come dire, consapevolezza che bisogna avere quando si discute di questi temi. Il modello di sviluppo va messo in discussione proprio perché ha fondamentalmente messo da parte, nel nostro Paese, diversamente che in altri Paesi, nel nostro Paese ha messo praticamente del tutto da parte la frusta competitiva basata sull'aumento del costo del lavoro. Ed allora, ed allora, se il nostro proposito deve essere quello di rilanciare l'aumento del costo del lavoro proprio, anche per mettere in crisi, diciamo, l'attuale modello di politica economica, per poterlo in un certo senso ribaltare, beh, allora è bene che quando si discute, per esempio, di salario minimo, si intervenga con connessioni di causa. Per esempio, a chi dice che già la proposta, diciamo, delle opposizioni parlamentari, 9 euro lordi all'ora è già tanto, perché tanti giovani lavoratrici e lavoratori dicono che è poco e invece c'è, diciamo, il mainstream della politica economica che dice che già 9 euro sono tanti. Ebbene, invece, bisogna dire che è giusto portare a 10 euro la proposta di politica economica proprio perché il problema non è soltanto quello di garantire salari degni di un paese civile, di un paese moderno, ma l'obiettivo è anche quello di cambiare il modello di sviluppo e di abbandonare appunto la logica da capitalismo arretrato, tutta fondata sull'abbattimento dei costi. Accrescere il costo del lavoro portato fino a 10 euro significa attivare un po' di più quella frusta competitiva di cui il capitalismo italiano ha un bisogno vitale, vitale. Poi però bisogna, io credo, anche fare attenzione ai dettagli, se si giungerà, diciamo, ad un momento di, come dire, produzione parlamentare, di una proposta legislativa in questo senso, auspichiamo che si arrivi ad un momento poi in cui si possa finalmente legiferare in tema dei dubbi che l'attuale governo possa mai giungere a un tale risultato, ma si spera magari in futuro di arrivarci, beh, quando si arriverà poi a produrre gli atti legislativi, auspicabilmente per una proposta di salario minimo, bisognerà fare attenzione ai dettagli. Io, per esempio, non sono d'accordo con la proposta, diciamo, che è stata avanzata dalle opposizioni parlamentari su un punto in cui sono d'accordo in particolare. Non sono d'accordo sul fatto che venga utilizzato il bilancio pubblico per, diciamo, rimediare a quelle situazioni in cui, per un motivo o per l'altro, le imprese dichiarano di non riuscire ad arrivare al minimo salariare. Cioè, non sono d'accordo sul fatto ottenuto nella proposta delle opposizioni parlamentari secondo cui bisognerebbe, come dire, caricare sul bilancio pubblico quella parte di aumento del salario fino al minimo che alcune imprese, si dice, non sarebbero in grado di sostenere. No, io credo che quella sia una cosa che debba essere evitata. non bisogna caricare sul bilancio pubblico la parte di aumento del costo del lavoro necessario a raggiungere i minimi salariali. Le imprese che sanno stare sul mercato e sono queste imprese che abbiamo bisogno saranno perfettamente in grado di sopportare il peso dell'aumento del salario minimo. Le altre imprese non sono in grado di restare nel sistema capitalistico che, fino a prova contraria, è un sistema competitivo. D'accordo? Non è possibile che il capitalismo oggi, come dire, preveda competizione solo tra i lavoratori e poi quando si tratta di imprese è sempre una politica a tarallucce e viri per cui le imprese, poi, la competizione devono sempre eluderla e devono sempre evitare. Ecco, quindi, se vogliamo che le imprese poi stiano sul mercato in modo competitivo anche sotto la frusta del salario minimo bisogna evitare che se poi non dicono che non ce la fanno poi si carichi l'aumento, diciamo, salariale sul bilancio pubblico. Quella è una cosa che va evitare. Un'altra cosa, secondo me, alla quale bisogna prestare attenzione una volta che eventualmente si facesse finalmente questa legge sul salario minimo ed è l'ultima cosa che io dico e poi mi taccio è questa. Bisogna evitare che, diciamo, una mera legge sul salario minimo possa diventare risolutiva dei problemi relativi ai minimi salariali. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, voi capirete benissimo, che in larga parte del Paese se tu introduci una legge sul salario minimo e non la affianchi con un sistema di controlli legati poi all'applicazione della legge beh, non sarà troppo difficile per molti imprenditori eludere il vincolo normativo perché chiaramente questi potranno diciamo, dichiarare formalmente sulla busta paga che loro rispettano il salario minimo e poi attraverso il fuoribusto attraverso pezzi di orario di lavoro nero di lavoro grigio e così via potrà sostanzialmente eludere il vincolo legislativo. Perché dico questo? Non per dire che poi il salario minimo è inutile, ci mancherebbe altro è utile, è necessario ma io credo che a fianco poi a questo dispositivo legislativo bisognerebbe quantomeno introdurre diciamo una serie di provvedimenti atti al rafforzamento degli ispettorati di controllo in particolare dell'ispettorato del lavoro proprio per fare in modo appunto che una legge importante come quella del salario minimo in larga parte dell'Italia non venga facilmente in usa dalle imprese. Questo per dire che appunto una bandiera è una cosa importante tirare su una bandiera è una cosa necessaria piantare una bandiera nel movimento delle lotte è senza dubbio una cosa necessaria ma poi a quella bandiera bisogna accompagnare altre bandiere quindi alla bandiera diciamo del salario minimo bisogna poi accompagnare un altro set di bandiere proprio per poter immaginare per poter concepire una politica economica alternativa che poi in ultima istanza deve essere il nostro auspicio io vi ringrazio molto spero che la discussione prosegua fruttuosamente e vi auguro buona serata e buone notte grazie bene grazie mille al professor Brancaccio adesso darei la parola all'avvocata Giorgia D'Andrea che oltre che essere un'avvocata che si batte nei tribunali e vince avendo obbligato imprese ad aumentare gli stipendi da fame di certi contratti anche firmati da organizzazioni sindacali nazionali ed è anche la persona la giurista che ci ha dato un contributo importante nella formulazione della proposta di legge prego sì infatti volevo iniziare il mio dibattito dicendo che le cause anche le perdo ma questo mi è molto mi serve proprio per allacciare per introdurre appunto quello che voglio dire le cause io le ho fatte unitamente al collega Giacomo Giannolla e mi sembra doveroso citare anche lui allora perché voglio dire che queste cause le ho perse perché nasce questo filone di processi incardinati presso il tribunale di Milano che hanno come ad oggetto la incostituzionalità della retribuzione prevista dall'ormai notissimo CCNL della vigilanza dei servizi fiduciari mi riferisco alla parte relativa alla guardiania non armata cioè tutti i vigilanti che noi ormai vediamo ovunque al di fuori dei supermercati delle banche delle università degli ospedali dell'agenzia delle entrate di qualunque ente pubblico e questo è importante perché appunto poi vorrò fare anche un riferimento al fatto che questi contratti grazie agli appalti sono utilizzati tantissimo non solo dagli imprenditori privati ma dal committente pubblico e questo è molto importante allora noi abbiamo appunto chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità di questa retribuzione che prima fino al 30 maggio del 2023 era di 950 euro lordi al mese che sono i famosi 4,72 euro all'ora io parlo sempre a lordo non parlo mai al netto dico fino al 30 maggio perché poi sicuramente grazie comunque alle sentenze che sono state fatte alle lotte dei lavoratori è stato sottoscritto il rinnovo del contratto che prevede la bellezza di un incremento che andrà a regime nel 2026 di 140 euro lordi ciò sta a significare che nel 2026 questi lavoratori percepiranno 1090 euro quindi lascio a voi i conti siamo sempre altro che povertà relativa in povertà assoluta il mio discorso vale anche per quanto concerne il rinnovo del contratto e quindi anche l'aumento che è stato previsto torno all'inizio abbiamo perso delle cause perché perché i giudici si sono divisi e si dividono tuttora non solo a Milano ma a Torino che sono i principali tribunali sostanzialmente in due fazioni coloro che dicono io assolvo il mio compito e quindi giudico mi faccio supplente e utilizzo anche quello che è previsto dal codice procedura ossia il principio di equità quando una norma è in contrasto con la costituzione io ho come faro primario l'applicazione della carta e in ultima istanza posso utilizzare un principio di equità che è nelle mie facoltà e posso adeguare la retribuzione in base a vari ragionamenti che io faccio affinché appunto la stessa sia in linea con il disposto del 36 altri giudici invece dicono no secondo me la mia funzione non è così ampia io in sostanza mi rimetto semplicemente anzi rimetto tutto quanto nelle mani di quelle che sono le parti sociali e quindi le organizzazioni sindacali pertanto se i contratti e non parlo di contratti pirati parlo di contratti che sono stati scritti appunto dai confederali hanno detto che questa retribuzione è corretta significa che hanno preso a riferimento tutti i vari elementi che si devono prendere a riferimento e quindi la condizione del mercato la dimensione delle imprese la produttività il tipo di lavoro e quant'altro hanno stabilito che questa retribuzione è corretta allora per me va bene così e ritengo che la stessa appunto perché prevista questo tipo di contratto non sia assolutamente in contrasto con l'articolo 36 benissimo questo abbiamo perso delle cause proprio perché abbiamo avuto queste sentenze che appelleremo appelleremo con abbiamo già appellato con degli argomenti che sono assolutamente dignitosi quantomeno da un punto di vista giuridico sul quale non vi tedio ma il problema più importante che si pone è ma se allora il mio parametro esterno di valutazione non è più la contrattazione collettiva ma la contrattazione collettiva vera diciamo quella sana quella prevista quella sottoscritta dai confederali e qui apro una parentesi i contratti pirata sono utilizzati solo per il 3% sono gli ultimi dati che sono usciti da parte dell'IMSS dell'ISTAT del CLAN e di tutti quanti quindi non è assolutamente vero che il problema in Italia sia quello dei contratti pirata ma è quello dei contratti che sono sottoscritti anche dai confederali quindi se io non ho più questo parametro esterno che cosa uso ed è qui il grosso problema che abbiamo anche noi perché io dico sì questa retribuzione di facciamo anche 1090 euro al mese grida vendetta cioè è percepibile che non è assolutamente una retribuzione dignitosa ma giuridicamente io quale parametro esterno devo applicare per far sì che il mio ragionamento stia in piedi ed è qui che si aprono i grandissimi problemi ed è qui che anche viene in aiuto tantissimo ed è fondamentale cioè è urgentissimo che il legislatore intervenga perché altrimenti si avrà sempre un ragionamento in approssimazione prendo questo parametro prendo quest'altro e quindi anche interviene la sensibilità di chi giudica perché non c'è l'intervento legislativo che è l'unico che può dire questa retribuzione è assolutamente in linea con il 36 che è quello appunto della Costituzione che prevede che cosa che il lavoro deve essere tale da poter garantire una vita libera e dignitosa cioè diamo anche importanza e contenuto a queste parole della Costituzione cioè lavorare significa poter andare in vacanza poter mangiare la pizza poter far studiare i figli in scuole in scuole che siano importanti poter concedersi di andare al cinema tutte le settimane non significa solamente sopravvivere pertanto quando si parla come faceva prima Nello si prendeva riferimento la mediana lì stiamo parlando di povertà relativa il lavoro non deve essere un sostentamento che mi fa essere poco sopra la soglia della povertà relativa quindi qual è il mio parametro esterno? Non c'è quindi ce li dobbiamo inventare e qui allora si sono aperte varie varie proposte cioè insomma noi abbiamo fatto determinate proposte da ultimo un giudice ci ha anche abbastanza aiutato con delle indicazioni ed è stata una sentenza molto coraggiosa e ha dato anche delle indicazioni però appunto torno al discorso no questo ci fa capire come sia tutto rimessa alla discrezionalità di chi giudica e finché non si avrà o un secondo grado e quindi delle corti di appello che si pronunceranno in maniera importante nello stesso senso o si avrà una cassazione che però ci metterà tanto tempo ad arrivare perché molto probabilmente le prime sentenze di cassazione arriveranno tra un paio d'anni nel frattempo noi avremo per forza di cose delle cause che a chi andrà bene è andata bene e chi è andata male continuerà ad essere in quella situazione pertanto appunto è urgentissimo legiferare in questo senso io volevo anche un attimo fare un accenno a questo che è un argomento sì giuridico ma che anche interessa questa proposta quando si parla di salario minimo si fa riferimento al tabellare forse è una differenza che non viene colta non è particolarmente affrontata ma deve essere approfondita cioè tabellare e quindi salario minimo e salario complessivo sono due concetti diversi nel senso che il salario minimo è dato da quello che i contratti prevedono come paga base contingenza è DR cioè che è un elemento di retribuzione basta questo è il salario e anche questa proposta è tarata solo su questo qua perché questo è anche per giurisprudenza assolutamente consolidata l'unico termine di paragone che viene fatto tra contratti quando si tratta di vedere se gli stessi sono riferiti al 36 tutto il resto cioè il salario complessivo è altro cioè sono tutti altri istituti retributivi parlo dell'indenità di mensa la quattordicesima cioè chi più ne ha chi ne metta qualunque altra cosa che quella è data dalla vera capacità e forza contrattuale è lì che bisogna andare a battersi e quindi lì veramente allora vediamo se siamo in grado di ottenere tanto di ottenere poco e di cosa ottenere ma è una cosa diversa che che ovviamente le società dicono che la corte costituzionale ha fatto riferimento al salario complessivo per vedere se questo è sufficiente questo discorso non è vero che è così perché intanto non tutti i contratti prevedono istituti retributivi pazzeschi cioè ci sono dei contratti che non prevedono niente se non la tredicesima anche perché la prevede la legge e non i contratti pertanto torno al discorso bisogna capirsi bene il salario minimo è il tabellare questo tutto il resto è rimesso alla forza veramente di quelle che sono le lote quindi della capacità della contrattazione collettiva di ottenere qualcosa allora quando sento dire che c'è il aiuto aiuto fugo dalla contrattazione collettiva e quant'altro sono delle cose che non sono completamente prive di senso cioè proprio ma anche giuridicamente basta leggere un manuale di diritto del lavoro non è assolutamente così quindi dobbiamo avere ben presente che il salario minimo è solo questo paga oraria in questo caso noi vendiamo 10 euro semplicemente di tabellare poi volevo dire anche un'altra cosa per far capire come ormai il dibattito si è imperniato solo su questo e che anche ci fa capire come siamo nella direzione giusta tutte le riviste scientifiche tutti i bollettini dei giuristi dei massimi giuristi di giuristi lavoristi italiani sono tutti contrari a questa proposta di legge e al dibattito che si sta facendo e questo secondo me ci fa capire proprio che siamo nella direzione giusta proprio perché le critiche che fanno a queste leggi sul salario minimo sono delle critiche che giuridicamente lasciano abbastanza il tempo che trovano e soprattutto non hanno una controproposta importante perché dicono bisogna semplicemente alzare i salari ma senza mai dare un parametro esterno di riferimento come ho detto senza mai dire quanto perché aumentare i salari che cosa vuol dire se io non dico di quanto o in termini assoluti o in termini percentuali non vuol dire assolutamente nulla altrettanto è uscito da pochissimi giorni l'ultimo rapporto dell'Inps che relativamente a quello che è stato fatto l'anno scorso con medesimi dati sostanzialmente sono mutati di poco ma con una dirigenza diversa perché adesso l'Inps è commissariata il lavoro povero sostanzialmente non esiste perché riguarda all'incirca 200.000 lavoratori adesso non mi ricordo esattamente 20.000 infatti mi vergognavo a dirlo invece era 20.000 dove l'anno scorso invece con appunto situazione sostanzialmente mutata stavamo parlando di almeno 3 milioni gli stessi dati sono stati analizzati poi io non sono un economista ed è anche questo il nostro problema di giuristi sono comunque stati analizzati in una maniera diversa perché lo sappiamo tutti che gli stessi dati possono essere usati interpretati e divulgati poi in maniera diversa quindi per delle ragioni che sono riuscita a comprendere ma è molto difficile per me spiegarle appunto perché non sono un economista sono stati dati dei dati completamente falsati e diversi che appunto dicono che quello che è il lavoro povero in sostanza riguarda così poche persone cosa peraltro smentita invece da un'analisi dico due cose poi chiudo da un'analisi di quelle che sono le buste paga dei lavoratori la maggior parte ha il beneficio del cosiddetto trattamento integrativo ex legge 21-20 cosa significa che ci sono dei soldi in busta paga messi dallo Stato perché perché quei lavoratori sono sostanzialmente considerati in povertà relativa quindi si tratta di misure assistenziali date dallo Stato proprio perché la retribuzione è inferiore di gran lunga al termine che diceva Primanello della mediana e quant'altro questo è per dire che cosa che non è solo il CCNL vigilanza che è quello proprio più emblematico ma molti contratti collettivi sempre sottoscritti dai confederali e che riguardano settori importantissimi terziario turismo pubblici esercizi e quant'altro sono per molti livelli al di sotto di quella che è una soglia di povertà relativa e molto al di sotto di quella che è la nostra proposta Molte grazie a Giorgia anche per aver chiarito alcuni aspetti della nostra proposta adesso darei la parola al professore economista Frederic Boccarat della Sorbona per il suo intervento che ringraziamo tra l'altro di essere venuto qui con noi grazie grazie per l'invitazione grazie dell'invito a nome mio del partito comunista francese e felicitarmi per la vostra battaglia sulla questione dei salari che è una battaglia per l'Italia ma in tutta Europa e io finirò sulle battaglie immediate e toccherò cinque punti in primo la situazione francese la seconda la necessità del salario minimo in terzo luogo la necessità di andare oltre il salario minimo in quarto il ruolo dell'Europa e da ultimo lo vedremo quando lo dice perché non me lo ricordo le battaglie immediate d'abord in Francia noi abbiamo un salario minimo che è il risultato dei grandi lutti di mei 1968 noi battiamo regolari per l'augmentare e noi battiamo contro la supression che viene senza per il patronato in Francia c'è un salario minimo che è stato fissato e ottenuto grazie alle grandi lotte del maggio del 68 e regolarmente ogni anno c'è la lotta per aumentare questo salario minimo e anche la lotta per evitare che venga tolto perché una delle cose che il padronato francese vorrebbe fare è di abolire il salario minimo il touche 14% dei salarii francesi c'è a dire 2,5 millions di persone il è di 11,50 euro dell'ora a po' prè in brut ce che fa se lavoriamo a tempo plato 1747 euro brut questo salario minimo tocca il 14% dei lavoratori e delle lavoratrici circa 2,5 milioni e il suo valore è di 11,50 euro all'ora lordi che vuol dire circa 1747 euro lordi al mese il y a des règles d'augmentation du salario minimum chaque année au 1er janvier le salario minimum doit augmenter comme l'augmentation des prix des prix mesurés pour les ménages 20% les plus pauvres et en plus il doit augmenter comme la moitié de l'augmentation du salaire moyen c'est-à-dire la moitié des luttes allora ci sont delle regole il 1er janvier il salario minimo chi è che c'ha volante 1 volante 2 ci sont delle regole il 1er janvier il salario minimo deve aumentare come l'aumento del costo della vita per il livello di vita che hanno il 20% più povero della popolazione e un pezzo che è legato alla metà dell'aumento del salario medio quindi c'è un pezzo che è legato alla povertà diciamo come ai consumi della povertà e un pezzo che è legato alla contrattazione di quanto è aumentato il salario medio e se depuis la dernière augmentazione l'inflation ha été trop élevée on a un augmentazione supplémentaire par esempio c'è tre augmentazioni nel 2023 del salario minimo janvier mai out e poi c'è una clausola di salvaguardia che se l'inflazione aumenta molto di più dopo che è stato aumentato ci può essere un recupero ad esempio nel 2023 il salario minimo è aumentato a gennaio a maggio e ad agosto proprio perché l'inflazione era aumentata molto e in più l'Etat può choisir di fare un coup de pus e in più lo Stato può scegliere di aumentare bene su tutte queste mesure sono contrate par le patronat la droite e centro e sono contrate de quattro façons questo salario minimo è attaccato dal patronato e dalle forze di destra in quattro modi uno che si oppongono sempre al suo aumento diciamo che sarebbe tra le prerogative dello Stato secondo che sviluppano il tempo parziale come forma di aggiramento delle norme tre che lavorano a ridurre la capacità contrattuale del movimento dei lavoratori tentando di ridurre i salari che erano più alti a quello che è lo smig e in ultimo appunto attaccando l'istituto stesso quindi fanno un appiattimento in basso e nello stesso tempo mettono in discussione l'istituto del salario minimo la garanzia dunque en resumé on y tient c'est une lutte permanente e votre lutte aide notre lutte e c'est une bataille pour tous les salaires pas seulement pour le minimum il ne faut pas opposer si quindi è una lotta permanente quello del salario minimo non è una cosa che avviene una volta e poi è finito la lotta in italia la nostra proposta in italia aiuta la loro lotta e questa cosa qua fa parte appunto di una battaglia generale che dobbiamo proseguire bene su la bataille che abbiamo menato in france su le retraite même si non abbiamo non gagnato su le retraite a fait peur au patronat qui est en train de lâcher et l'état qui sont tous les deux en train de lâcher des augmentations de salaire mais la situation est dramatique comme chez vous jusque sur la santé sur les suicides Et puis il y a des exigences nouvelles le capitalisme est en crise et a besoin de gens formés et d'un minimum de coésion sociale in plus ci sono nuove esigenze perché il capitalisme in crisi ha bisogno di gente formata dei lavoratori formati con una formazione qualificati e ha bisogno di coesione sociale e quindi tenta di ridurre il livello di conflitto in miglior condizioni economico perché c'è un problema di aumento della domanda aggregata ma anche perché dei lavoratori che sono pagati meglio producono meglio, diciamo, come giustamente aveva capito Gramsci che diceva a salario di merda, a lavoro di merda. Lavoro di merda, prodotto di merda. Questo concerna tutta la società, non solo il lavoro. Il y a il y a des critiques du centre-droit, de la droite ou du patronat che dicono che il problema è il problema è il problema è insuffisante. Ma il faut voir e il faut dire che oggi la folia dei profits c'è retirer l'argent delle entreprises che le impi impedano di se sviluppare. allora che dans la rivoluzione tecnologica attuale dans la modernité pour développer les entreprises c'è maintenant la priorité de développer les qualifications et les femmes et les hommes c'est ça la modernité et et le capitale. La destra il patronato fa le critiques sull'inalzamento dei salari dicendo che questo riduce i profitti. In realtà il problema vero è che nelle imprese c'è una tendenza a ridurre la quantità di investimenti che le imprese fanno direttamente dentro l'impresa mentre la modernità vera che va perseguita è quella della qualificazione del lavoro quindi sia dei lavoratori le tecnologie e tutto il resto attraverso l'investimento. Deuxièmement il parle de competitività e de coût du travail je l'ai entendu nous le savons tous c'è dans toute l'Europa costo del lavoro e nous répondons costo del capital e donc il faut baisser le coût du capital les dividendes les intérêts des banques pour permettre des dépenses de développement salaire qualification c'est donc une bataille de classe loro parlano di costo del lavoro noi parliamo di costo del capitale bisogna abbassare i costi del capitale che sono i tassi d'interesse ad esempio e i profitti questo è la cosa gli altri tassi d'interesse sono un elemento di lotta di classe dall'alto contro il basso e noi vogliamo rovesciare questo io sono un po' lungo un poco lungo un poco lungo lungo io riduz au delà delà del salario tutta nostra società ha bisogno di retourne le cose rèvolution per donare la priorità all'emploi la formazione le salari au lieu della priorità all'investissement au capitale c'è l'efficacità nouvelle partout e il salario è la pointe avancée di questa battaglia e lui dice che noi la nostra strategia rivoluzionaria deve essere in grado di rovesciare quali sono le priorità rispetto al lavoro e per cui noi dobbiamo mettere al centro occupazione salari qualificazione dei lavoratori mentre loro mettono solo al centro i profitti la rendita e gli investimenti dal loro punto di vista invece noi dobbiamo rovesciare questo anche nella concretezza della quotidianità in tutta Europa in Germania in Francia in Italia c'è una penura di lavoratori qualificati sia nell'industria sia nei settori pensiamo alla sanità allora mi sostiene che ed è una diciamo tradizione dentro il partito comunista francese di mettere questo al centro che il tema della qualificazione del lavoro della formazione e la spesa che deve essere messo questo è un pezzo della lotta di classe non è un fatto che riguarda l'imprenditorio che riguarda il potere della classe sul ciclo lavorativo ma partout in Europa loro progete c'è ce qu'ils appellano il pleno emploi neoliberal c'è a dire tutto il mondo al lavoro a n'importe quel prix in n'importe quelle condizione e la suppression delle allocazioni e delle aides come l'ha fait Meloni chez vous come lo vuole Le Pen chez nous transformé le travail encore plus comme une marchandise invece quindi la nostra idea è quella della qualificazione del lavoro e della dignità del lavoro del peso dei lavoratori nel ciclo produttivo la loro idea è quella di un pieno impiego neoliberista che è un pieno impiego che mantiene la gente povera con dei lavori schifosi precari in cui il lavoratore non è in grado di far valere le sue ragioni dentro 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 il lavoro quindi sono proprio due modelli di occupazione e di rapporto di lavoro pubblico c'è di fare basse salaire quindi se augmenta le salaire non n'ha plus d'aide c'est très grave ces aides il faut inverser e changer les conditions de ces aides in france c'est une grande battaglie sindicale qui commence avec la cgt mais aussi le syndicat très reformiste cfdt qui rentra dans cette battaglia non non solo in europa ma in tutto il mondo c'è questa cosa per cui vengono dati degli aiuti di stato sulla base dei bassi salari cioè si aiutano le imprese con i salari più bassi questa è una condizione che in realtà allarga i bassi salari e va completamente ravvesciata in francia stanno cominciando una battaglia che è fatta non solo dal partito comunista francese ma anche dalla CST o da un sindacato riformista come la CST che chiede invece di legare l'intervento pubblico di aiuto alle imprese all'aumento dei salari e che quindi gli aiuti pubblici servono non a tenere i bassi ma ad aumentare i salari puisque le neoliberalisme c'est le marché avant tout plus l'État qui met des miliards c'est ça le neoliberalisme c'est pas le XIXe siècle où l'État ne mette pas des miliards perché il neoliberalismo non è il privato è bello ma è il privato che fa tutto quello che vuole e lo Stato che dà i soldi alle imprese ok donc nous avons un progetto che va au delà de leur plein emploi nous parlons de sécurité d'emploi e de formation soit emploi soit formation formation pour un meilleur travail avec une maîtrise des mobilités et pour maîtriser les productions nouvelles ça c'est notre projet révolutionnaire qui essaie de dépasser le projet traditionnel de la gauche d'emploi garanti à vie nous prenons au sérieux le besoin de nouveaux emplois mais ils doivent être maîtrisés publiquement avec une nouvelle démocratie et une autre utilisation des milliards d'aide publique et du crédit bancaire il progetto que nous avons comme partit communiste français est que les soldes publiques comme les crédits bancaires ne sont finalis simplement au pieno impieux mais un pieno impieux legat à des salari buons mais à la formation et donc à la possibilité des laboratoires de la banque centrale européenne et les banques dans chaque pays ce qu'il faut c'est pas taxer c'est changer la logique du crédit depuis les banques nationales les banques privées dans les pays jusqu'à la banque centrale actuellement elle augmente les taux pour tout le monde elle tue la croissance elle tue l'emploi quand elle les baisse ça va à la spéculation il faut une politique de la banque centrale européenne et des banques publiques qui baissent les intérêts les taux le coût du capital pour les entreprises qui développent les salaires c'est un levier gigantesque politique formidable in questo quadro va denunciata la politica finanziaria della banca centrale europea e delle banche nazionali perché loro adesso stanno applicando alti tassi di interesse che uccidono la crescita e peggiorano le condizioni di vita e quando li abbassano i tassi di interesse è per mettere molto capitale nelle mani degli speculatori e permettere la speculazione delle localizzazioni e quant'altro invece noi dobbiamo essere per abbassare i tassi di interesse ma finché le risorse che vengono liberate siano finalizzate esattamente alle cose che si diceva prima quindi alla piena occupazione alla garanzia del lavoro e tutto il resto e non alla speculazione finanziaria dobbiamo fare su tutti e due i piani dal piano finanziario per l'utilizzo delle risorse e sul piano diciamo così della difesa del lavoro e del suo sviluppo tenendo assieme queste due cose e la dobbiamo fare insieme per questo ancora ribadisce la necessità del lavoro comune Italia Francia e gli altri paesi e anche le prossime elezioni europee saranno un'occasione per sviluppare insieme questo lavoro grazie Molte grazie Frederic allora adesso la parola a Guido Lutrario dell'esecutivo di SB da cui è partita come sapete la proposta di introduzione di legge per introdurre il reato di omicidio di lavoro sul lavoro in Italia grazie Allora grazie intanto di questa possibilità io prima voglio parlare però anche io un po' di salario minimo voglio partire dalla presenza della Meloni al congresso della CGL quando va ad attaccare il salario minimo ma utilizza gli argomenti che per dieci anni ha usato la CGL cioè riporta a quella platea le motivazioni per cui oggi il governo sostiene che il salario minimo è una misura che va a colpire la contrattazione sindacale che è esattamente la tesi che ci hanno riportato per anni le organizzazioni confederali io ricordo il tavolo che aveva promosso la ministra del lavoro Nunzia Gadalfo dei 5 Stelle che aveva buttato là una proposta di introduzione del salario minimo a 9 euro nel 2018 e questo già la dice lunga perché poi sono passati tanti anni in cui abbiamo avuto la fiammata dell'inflazione e oggi ripropongono il salario minimo sempre a 9 euro come se quello che è successo in questi anni non avesse condizionato e peggiorato ulteriormente il potere d'acquisto dei salari tuttavia il merito di aver aperto questa discussione all'epoca nessuno glielo può togliere così come non ci possiamo togliere dalla testa il ricordo delle organizzazioni sindacali tutte compattamente unite con il fronte padronale a dire che no il salario minimo no perché la questione del salario è materia di contrattazione sindacale e io qui voglio fare una precisazione prendendo spunto anche dalle cose che diceva l'avvocatessa perché di che contrattazione stiamo parlando quando affrontiamo la discussione sulla contrattazione in tutta una serie di settori lavorativi a basso o a bassissimo reddito stiamo parlando di settori dove si celebra una contrattazione finta organizzazioni sindacali che non presentano piattaforme cioè che non hanno niente da rivendicare che non promuovono una sola assemblea in nessun luogo di lavoro che non chiamano alla consultazione nessun lavoratore che si preparano esclusivamente a sottoscrivere la proposta delle organizzazioni datoriali è una tradizione non è una situazione straordinaria è una condizione consuetudinaria che nel nostro paese si è ossificata ormai da tanti anni per cui quando ci vengono a dire che bisogna salvare la contrattazione stanno parlando di aria fritta in molti settori poi c'è un altro problema e qui sono d'accordo con Antonello quando giustamente dice qui il problema non sono i salari del lavoro che sbagliamo a chiamare povero lo dobbiamo chiamare lavoro sottopagato il problema però non è solo il lavoro sottopagato il problema in questo paese è il salario è la dinamica salariale guardate ogni giorno perché poi voglio parlare ovviamente della legge per introdurre il reato di emicidio sul lavoro ogni giorno ci sono morti sul lavoro ma ogni giorno escono dati ufficiali sulla condizione specifica del nostro paese rispetto ad una dinamica salariale in discesa ogni giorno ci sono dati ufficiali degli enti internazionali istituti cioè noi abbiamo un paese dove il salario è in caduta libera da anni però questo non succede solo per le caratteristiche produttive del paese ci sono anche delle regole che sono state sottoscritte e sono state anche rinnovate nel corso degli anni nel 1993 un accordo interconfederale confindustria organizzazioni sindacali e il governo di allora si ripropose la moderazione salariale cioè agganciò i contratti a una dinamica che non poteva mai superare l'inflazione questo poi si tradusse nell'individuazione di strumenti di calcolo dell'inflazione la famosa IPCA di cui avrete sentito parlare in questi anni a proposito della fiammata inflazionistica un IPCA depurato dei costi dei prodotti energetici provenienti dall'estero cioè importati questa dinamica ha garantito che i salari non potessero mai andare oltre al massimo avrebbero mantenuto un rapporto con l'aumento dei prezzi comunque inferiore questo spiega perché in 30 anni i salari in questo paese sono scesi che cosa dicevano allora eh va bene questo avviene per i contratti ma poi nelle aziende il sindacato contratta al cosiddetto secondo livello in termini sindacali ma insomma fa il contratto aziendale la contrattazione integrativa di cui probabilmente avrete sentito parlare ma questa dinamica riguarda una fetta minoritaria di lavoratori la stragrande maggioranza dei lavoratori in questo paese non c'ha nessuna seconda contrattazione c'ha quel contratto là che segue quella dinamica quegli accordi che sono ancora vigenti in questo paese che succede a giugno a giugno qualche mese fa succede un fatto strano l'Istat tira fuori un dato sull'andamento dell'IPCA cioè dell'aumento dei prezzi al 6,6% e Confindustria dice ah ma non era questo quello che ci avevate come si dice preavvisato lo scorso anno ci avete tirato fuori un dato sull'aumento dei prezzi che non era quello a cui noi eravamo preparati come se un istituto di ricerca come l'Istat dovesse sostanzialmente corrispondere l'inflazione che piace ai padroni e non semplicemente calcolarla sulla base dei dati oggettivi morale questo che cosa significa che nemmeno quelle condizioni stabilite dalla legge intendono rispettare l'inflazione è cresciuta troppo adesso noi dovremmo alzare i salari in base a questo dato ma nemmeno per sogno quindi rinviamo il rinnovo dei contratti la dinamica dei salari in questo paese è il problema e la legge sul salario minimo è uno degli strumenti che possiamo utilizzare per tentare di farli alzare un pochino tutti quanti partiamo dai più bassi perché si produca una spinta verso l'alto questo è il ragionamento e quindi non è solo andare a migliorare la condizione salariale di chi sta peggio ma favorire un processo verso l'alto il problema è che le organizzazioni sindacali che per anni si sono battute contro questo tema cioè contro l'ipotesi che si potesse introdurre il salario minimo in questo paese sono il problema io qualche volta lo dico ma perché negli altri paesi non c'è questa dinamica salariale ma gli altri paesi CGL Cislewil non ce l'hanno ce l'abbiamo solo noi purtroppo e ce la dobbiamo sorbire detto questo voglio passare all'altra questione perché non ne abbiamo parlato per niente invece è una questione serissima la questione dell'omicidio sul lavoro allora in realtà la legge non è solo sull'omicidio sul lavoro la legge riguarda anche gli infortuni gravi io voglio ricordarvi alcuni dati che sono clamorosi perché è vero che ci sono stati 4.000 morti negli ultimi 5 anni che è un dato grave che dà la sensazione della strage ma ci sono stati 4 milioni di infortuni gravi di cui 300.000 con danni permanenti ti sei fatto male e te lo porti per tutta la vita e ce lo hanno raccontato alcuni giudici del lavoro in questi giorni dopo i fatti di Brandizzo che tutta questa vicenda che riguarda tanta parte del mondo del lavoro non si traduce in sanzioni perché da un lato si è diffusa una cultura nel nostro paese che la salute e la sicurezza sono un costo sono un costo che potrebbe incidere sul profitto e per cui è un costo che va tagliato e questa è la cultura più diffusa ma si è diffusa perché io padrone so che non vado incontro a nessuna sanzione che me la cavo che ho mille possibilità per sfuggire alle responsabilità allora anche qui come per il salario minimo il salario minimo non è la soluzione è un elemento di spinta anche l'introduzione di un reato che non c'è nel nostro paese c'è l'omicidio stradale ma non c'è l'omicidio sul lavoro ma quando un imprenditore scientemente sceglie di non adottare quelle misure che la legge prevede perché in questo paese non è la migliore delle leggi ma è una buona legge e come tutte le poche buone leggi nel nostro paese non si applicano sono state il prodotto di battaglie sono state il prodotto di grandi competenze applicate a questa materia ma naturalmente una volta portata in porto la legge poi bisogna applicarla e qui intervengono altri fattori ostruzionistici impedimenti di varia natura qualcun altro si è svegliato e ha presentato in Parlamento una legge che introduce l'omicidio il reato di omicidio sul lavoro è successo pochi giorni fa l'ha fatto il Partito Democratico una legge che propongono sostanzialmente inutile perché è stata scritta appositamente affinché qualora mai la dovessero approvare risulterebbe sostanzialmente così generica da essere inapplicabile noi l'abbiamo scritta con grande attenzione perché si tratta di intervenire su quelle materie di competenza del datore di lavoro su cui se c'è in adempienza se c'è in osservanza e cioè se non hai costruito realizzato il documento di valutazione dei rischi o se lo hai scritto in un modo così formale il pezzo di carta ce l'ho nessuno mi può contestare la formalità dell'atto ma se quell'atto non corrisponde effettivamente alla presa piena di coscienza di quali sono scientificamente i rischi del tuo ambiente di lavoro e quindi se non sono state poi predisposte conseguentemente le procedure i dispositivi e tutto ciò che serve per limitare o eliminare quel rischio e lì c'è una responsabilità molto precisa e c'è in caso di omicidio ma ci deve essere anche in caso di infortunio perché non solo devi morire per chiedere giustizia perché se hai subito un danno e soprattutto se questo danno è permanente anche questo deve essere fonte di una dinamica giudiziaria ora io ho citato dei numeri voi lo sapete che quei numeri sono sottostimati quanti sono i lavoratori che si fanno male e che non compaiono nella statistica vuoi perché lavorano al nero e ci sono milioni di lavoratori al nero o al grigio in questo paese vuoi perché sono ridotti in una condizione da schiavo per cui non sei nella possibilità di poterti difendere e su questo vi potrei raccontare casi abbastanza raccapriccianti di tante situazioni di impotenza contrai un tumore sai che stai contraendo un tumore perché stai lavorando in un ambiente tossico e purtroppo non hai la forza di reagire ti tagliano ti fai male perdi una mano sei un bracciante hai perso la possibilità di lavorare ma siccome nessuno ti ha mai firmato un contratto tu hai perso questa possibilità nessuno mai ti risarcirà e tu non potrai più lavorare e purtroppo questa è una condizione diffusa nel nostro paese non è una condizione straordinaria non è una situazione che capita una tanto è una condizione molto frequente e purtroppo questo è il dramma di un paese ecco perché noi molti compagni ci hanno detto ma che pensate che aumentando le pene rendendo più stringente il sistema penale si risolvono i problemi no è chiaro e tuttavia il fatto che non sia nemmeno nominato il reato di omicidio sul lavoro non sia nemmeno non ci sia nel nostro codice è solo una formula che è stata introdotta qualche anno fa e che peraltro non ha prodotto alcun effetto concreto l'omicidio colposo ha visto è stato introdotto un comma nell'articolo del codice penale che riguarda l'omicidio colposo in cui c'è la specifica che questo omicidio se viene per inosservanza enorme sugli infortuni sul lavoro che poi sostanzialmente in particolare è il decreto legislativo 81 prevede delle pene specifiche da 2 a 7 anni peraltro ora io vi vorrei ricordare che per chi contraveniva alle norme relative alla percezione del reddito di cittadinanza era previsto il carcere fino a 6 anni invece se fai morire i tuoi dipendenti perché hai risparmiato sul dispositivi sulle attrezzature sulle procedure su quello che avresti dovuto spendere per la salute al massimo ma non succede mai ma non succede mai al massimo sono 7 anni in questo paese ecco noi pensiamo che vada capovolta la situazione che dobbiamo mettere questi signori nella condizione di sentire almeno un rischio una deterrenza per i loro comportamenti perché quello che purtroppo si è diffuso è un atteggiamento di noi l'abbiamo definito abbiamo fatto un incontro tempo fa con un gruppo di delegati i padroni odiano i lavoratori hanno un comportamento nei loro confronti che è come se fossero animali devi lavorare per me mi devi ringraziare e se ti fai male non devi denunciare le cause le responsabilità di questa condizione quanti lavoratori dei cantieri sono stati fatti morti sono stati fatti passare per incidenti stradali e sono stati trovati sul bordo delle strade o squagliati negli acidi dei cantieri la sapete la storia di quel lavoratore a Ragusa quante manifestazioni abbiamo fatto per cercare di mettere le aziende di fronte alle loro responsabili questi l'hanno squagliato nell'acido perché aveva denunciato su Facebook condizioni di lavoro inumane una denuncia che è durata pochi minuti perché l'hanno ammazzato di lì a poco ecco io penso che siccome queste cose producono un po' di rabbia così come la rabbia e chiudo che ci ha prodotto qualche giorno fa quando siamo andati con il banchetto davanti all'azienda dove è morta Luana ve la ricordate quella ragazza che è rimasta schiacciata sotto le macchine bene il padrone che con tutta evidenza ha una responsabilità specifica perché ha evitato di introdurre in quella circostanza quei dispositivi che avrebbero salvato la vita a quella ragazza bene eravamo lì davanti con la mamma e questo signore era lì dietro i cancelli dell'azienda con la telecamera a riprendere chi si avvicinava al banchetto e i lavoratori di quell'azienda non si sono avvicinati perché c'è un elemento di ricatto che pesa nei confronti dei lavoratori allora io pensiamo che questa sia una battaglia di civiltà ma una battaglia pure di riscatto dell'orgoglio di chi lavora e quindi vi invito a sostenerla a portarla avanti nella piena consapevolezza che non basta una legge per cambiare questo ma insomma il salario minimo l'omicidio sul lavoro la battaglia sul salario devono far parte di una stagione di rilancio della dignità del lavoro in questo paese grazie bene solo due parole conclusive abbiamo parlato questa sera di due temi le cui problematiche si influenzano a vicenda i salari bassi sono una delle componenti della ricattabilità del lavoro la ricattabilità del lavoro è quello che permette di non investire sulla sicurezza perché i lavoratori non hanno la forza di rivendicare condizioni di sicurezza migliori tutte e due le condizioni i bassi salari e la mancanza di sicurezza cambia parlano di questo modello di sviluppo assolutamente distruttivo di tutto quello che tocca noi abbiamo parlato questa sera del lavoro ma sapete che ha un'attività predatoria e distruttiva di tutto contrastare questo terreno sul piano dei salari e sul piano della sicurezza del lavoro come è stato detto contrasta questo modello di sviluppo e spinge verso un altro modello di sviluppo guardate Frederic diceva e ci spiegava come e l'ha ripetuto Guido l'abbassamento dei salari non è finito lo stiamo vivendo oggi giorno per giorno anche l'attacco alla sicurezza sul lavoro c'è un signore che lavora costantemente e lavora anche per questo governo che si chiama Sacconi che è il principale assalitore demolitore della storica legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che ha già un progetto di legge adesso in Parlamento per permettere ai padroni di evadere anche la compilazione del documento di prevenzione dei rischi quindi è un attacco che continua allora la nostra battaglia ha un'importanza rilevante e allora questa raccolta di firme non va presa sotto gamba perché noi le altre leggi 7 e 8 sono state depositate in Parlamento 7 anni senza fare nulla belle o brutte ce le avevano l'anno non le hanno neanche fatte andare neanche quando hanno avuto il ministro ok le proposte attuali rischiano lo stesso di non andare avanti specialmente con questa maggioranza allora il nostro impegno per la raccolta delle firme ma soprattutto insieme alla raccolta delle firme le iniziative come questa l'andare nei luoghi di lavoro a far raccogliere questa bandiera sappiamo bene l'abbiamo detto che la maggior parte degli italiani ancora più che contro la guerra è la percentuale di quelli a favore del salario minimo la mobilitazione parlare con le persone raccogliere le firme mostrare cercare di unificare intorno a questa battaglia la maggior parte di figure dalle più devastate alle meno devastate è una battaglia importantissima sapete anche che quest'autunno il salario minimo nel dibattito pubblico diventerà una parte importante che noi arriviamo con le nostre firme e con un numero più alto possibile sarà decisivo perché alla fronte che noi proviamo a riunificare sul piano sociale si unisca anche l'unificazione di un fronte di movimenti di soggettività sindacali le più più ampie possibili anche quelle che abbiamo criticato questa sera perché senza l'unificazione di un grande e vasto movimento questa battaglia non si vince il primo passo è però quello che noi sapremo mostrare con la nostra iniziativa con questa raccolta firme sulle due proposte di legge il salario minimo a 10 euro lordi e l'introduzione del reatto di omicidio sul lavoro io adesso vi informo che Giorgia è dovuto andare perché aveva un treno da tornare a casa e il professor Brancaccio lo stesso ringrazio tutti loro gli ospiti di questa sera penso che abbiamo fatto una bella cosa che abbiamo messo lì tanti argomenti ed è per questo che gli spunti sono infiniti li ringraziamo tutti e io non mi sogno di provare a riassumerli in qualche modo grazie 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 grazie